Uno di noi ha un passo da casa a un ettaco di polmone verde, dove potersi rifocillare e riconnettersi con la natura. All'interno di questa pineta si sviluppano una serie di sentieri, opportunatamente indicati, che tagliano l'aria in lungo e in largo. In ogni squarcio sono presenti tante erbe spontanee, che fanno bene, ma ancor di più dedicarsi a una qualunque attività all'aperto. E io ho scelto il trekking. Prima di salutarvi volevo dedicarvi una frase, che vi darà benessere istantaneo, e al contempo volevo coinvolgervi in un'attività che ha a che fare con delle lettere floreali, e volendo ci potete personalizzare il vostro nome. Vi do appuntamento al prossimo video, un abbraccio! Grazie a tutti! Grazie a tutti!